Peppe Coccia, uno dei pilastri di questo Cerignola, prime sensazioni, siamo ai primissimi giorni di questo ritiro di San Giovanni Rotondo. Sì, le sensazioni sono positive, sicuramente abbiamo iniziato con la consapevolezza di essere una squadra forte ed era la consapevolezza che ci è rimasta del fine dell'anno scorso. Quindi siamo pronti per ripartire e per fare bene. Diciamo che con Mr. Raffaele di fatto vai a nozze perché lui riesce a sfruttare al meglio le tue caratteristiche. Sarai il fluidificante di destra di questo 3-5-2. State lavorando in tal senso? Che stagione sarà per te? Sicuramente già l'anno scorso ne ho giovata di questa situazione, però diciamo che ne gioveremo tutti perché alla fine siamo una squadra costruita per fare questo tipo di modulo e questo tipo di calcio che il mister cerca da noi. Noi ci stiamo lavorando, stiamo migliorando e vogliamo arrivare al top già da subito. Sei anche fresco di rinnovo. Cosa filtra dalla società? Che ambizioni si pone il Cerignola per i prossimi anni? Con Coccia anche? Le ambizioni la società le ha sempre avute e credo che la conferma sia anche il fatto di rimpiazzare un attaccante con un altro. Quindi è andato via Pippo, D'Andrea, ne abbiamo preso un altro che è Cuppone. Quindi già questo è un segnale chiaro. Quindi spero e credo che le ambizioni, cioè che riusciremo a ricambiare sul campo le ambizioni della società.